La chiusura totale è stata ridotta a 40 giorni ma i lavori alla Galleria delle Ferriere proseguiranno poi per altri 450 con un senso unico alternato di giorno e stop alla circolazione di notte. Così è stato deciso nell'incontro tra città metropolitana, Anci Liguria ed i sindaci dei territori interessati. Un buon risultato rispetto alle previsioni iniziali di circa tre mesi di chiusura ma che causerà comunque un pesante aglizzaggio alla viabilità. Stiamo e stiamo ragionando veramente con 40 giorni di lavoro che devono andare in continuità e non possiamo calcolare gli imprevisti. Città metropolitana ha firmato l'ordinanza per i lavori di asfaldatura dell'SP77 di Boasi che sarà la strada alternativa da percorrere quando la galleria sarà chiusa. Sulla provinciale nel comune di Lomarzo è stato istituito un senso unico alternato regolato da un semaforo fino al 28 febbraio. La chiusura della galleria invece è prevista dal 21 febbraio al 2 aprile, poi per 465 giorni senso unico cadenzato al mattino verso Genova, al pomeriggio verso la Fontana Buona e chiusura notturna. La chiusura notturna è continuativa fino al termine dei lavori perché diventa indispensabile per gli interventi sulla volta, sui servizi, avere ore in cui non transitano veicoli per la sicurezza degli operatori e anche ovviamente di chi li va a transitare. I lavori di messa in sicurezza prevedono il rifacimento dell'arco rovesciato, la parte di fondo della galleria che al momento soffre di inalzamenti probabilmente causati da infiltrazioni. Questo impone la rimozione dell'asfalto, è uno scavo importante per poi fare delle solette, delle gettate in calcestruzzo che hanno dei tempi di maturazione comunque importanti. Su richiesta dei sindaci, ANAS metterà l'isposizione e allestirà una piazzola per il risoccorso durante il periodo di esecuzione dei lavori, in cui, per forza di cose, la viabilità nell'area sarà molto ridotta.